La via della santità è la stessa della felicità, è la via percorsa da Gesù, chi cammina con lui entra nella vita eterna, così il Papa ieri pomeriggio nel cimitero del Verano, celebrando la messa nella solennità di tutti i Santi. All'Angelus Papa Francesco rende omaggio ai Santi della porta accanto, esempi vivi e contagiosi del modo di vivere e di morire, da imitare nella vita quotidiana. Madre Maria Teresa Casini, fondatrice delle oblate del Sacro Cuore di Gesù, è beata. A proclamarla nel rito celebrato sabato mattina a Frascati, il prefetto della congregazione delle cause dei Santi, il Cardinale Angelo Amato. Vicino alla nozione così afflitta e tormentata, appello del Papa per il Centrafrica. Il 29 novembre aprirò la porta santa della cattedrale di Bangui durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione. La via della santità è la stessa via della felicità e la via percorsa da Gesù. Chi cammina con lui entra nella vita eterna, così il Papa nel pomeriggio di ieri celebrando la messa nella solennità di tutti i Santi nel cimitero del Verano a Roma. Papa Francesco poco prima di iniziare la santa messa ha deposto una rosa bianca sulla tomba di una famiglia romana come segno di omaggio alla memoria di tutti i defunti della Diocesi. I Santi ci precedono nella Patria Celeste e ci accompagnano ed incoraggiano ad andare avanti nel nostro pellegrinaggio terreno. Con queste parole Papa Francesco ha invitato ogni uomo a mettersi in cammino sulla strada per raggiungere la vera beatitudine. Gesù è questa via, chi cammina con lui entra nella vita eterna. È un cammino difficile, difficile da comprendere perché va controcorrente, ma il Signore ci dice che chi va per questa strada è felice, prima o poi diventa felice. Beato ha spiegato il Papa il povero in spirito perché ha il cuore spogliato, libero dalle cose mondane e atteso nel regno di Dio. È beato chi è nel pianto perché chi non ha mai provato tristezza o dolore non conoscerà mai consolazione. Felice invece possono essere quanti hanno la capacità di commuoversi, la capacità di sentire nel cuore il dolore che c'è nella loro vita e nella vita degli altri. Questi saranno felici perché la tenera mano di Dio Padre li consolerà e li accarezzerà. E se siamo spesso impazienti, nervosi, lamentosi, abbiamo pretese, il Vangelo, ha ricordato il Papa, ci dice che beati sono i miti, come le mamme e i papà, nei confronti di figli che li fanno impazzire. Qualcuno ci precede nel cammino, sono beati quanti hanno fame e sete di giustizia verso gli altri e verso se stessi. Saranno saziati perché, ha proseguito Francesco, sono pronti ad accogliere la giustizia che solo Dio può dare. Beati anche i misericordiosi, sanno perdonare, non giudicano tutto e tutti, ma cercano di mettersi nei panni degli altri. Ogni uomo, ammonito il Papa, ha bisogno di perdono. Riconoscersi peccatori non è una formalità. È un atto di verità. Signore, eccomi qua, abbi pietà di me. E se sappiamo dare alle altre il perdono che chiediamo, siamo beati. I Santi, inoltre, sono pazienti, seminatori di pace, veri figli del Padre, del Cielo, che ha mandato nel mondo il suo Figlio come seme di pace per l'umanità. Non sono felici, ha constatato il Santo Padre, quelli che seminano zizzania o che cercano sempre le occasioni per imbrogliare. Dunque, ha concluso Francesco, sugli esempi dei Santi chiediamo al Signore la grazia di essere persone semplici e umili, la grazia di saper piangere, la grazia di essere miti, la grazia di lavorare per la giustizia e la pace e soprattutto la grazia di lasciarci perdonare da Dio per diventare strumenti della sua misericordia. Nella solennità di tutti i Santi che la Chiesa celebra nel primo giorno di novembre, Papa Francesco all'Angelus ha ricordato che questi sono persone che appartengono totalmente a Dio, così come li presenta il Libro dell'Apocalisse, una moltitudine immensa di eletti segnati dal sigillo di Dio. Siamo consapevoli di questo grande dono? Tutti noi, figli di Dio, ci ricordiamo che nel battessimo abbiamo ricevuto il sigillo del nostro Padre Celeste e siamo diventati i Suoi figli? per dirlo di un modo semplice, portiamo il cognome di Dio, il nostro cognome è Dio perché siamo figli di Dio. Qui sta la radice della vocazione e della santità. Santi esempi da imitare, ha sollecitato il Papa. Facciamo attenzione non soltanto a quelli canonizzati, ma ai Santi per così dire della porta accanto, che con la grazia di Dio si sono sforzati di praticare il Vangelo nell'ordinarietà della loro vita, non sono canonizzati. A questi Santi dobbiamo essere grati e grati a Dio che ci li ha donati e messi vicini, esempi vivi e contagiosi nel modo di vivere e di morire, fedeli a Gesù e al suo Vangelo. Quanta gente buona abbiamo conosciuto nella vita e conosciamo e noi diciamo ma questa persona è un santo, lo diciamo, ci viene spontaneamente. Questi sono i Santi dalla porta accanto, quelli non canonizzati ma che vivono con noi. Quindi l'invito a imitare i loro gesti d'amore e misericordiosi a perpetuare la loro presenza in questo mondo. Un atto di tenerezza, un aiuto generoso, un tempo passato ad ascoltare, una visita, una parola buona, un sorriso. Ai nostri occhi questi gesti possono sembrare i significanti ma gli occhi di Dio sono eterni perché l'amore e la compassione sono più forti della morte. Dopo la preghiera mariana il Papa ha reso omaggio a madre Teresa Casini, fondatrice delle suore oblate del Sacro Cuore di Gesù, proclamata beata nella mattinata di sabato. È stata beatificata sabato mattina sulla piazza antistante la cattedrale di San Pietro Apostolo a Frascati, madre Maria Teresa Casini, fondatrice delle oblate del Sacro Cuore di Gesù, dedite all'educazione dei giovani e oggi presenti nei cinque continenti. In rappresentanza di Papa Francesco c'era il prefetto della congregazione delle cause dei Santi, il cardinale Angelo Amato. Teresa Casini aveva faticato a realizzare la sua vocazione perché la madre, alta borghese di origini francesi, voleva indirizzarla verso un buon matrimonio. Era suo padre morto quando lei aveva appena dieci anni che l'aveva educata alla fede e l'aveva spinta verso Gesù, come ha ricordato il cardinale Amato nella sua omelia. E il genitore, uomo pio e devotissimo, il giorno del battesimo della piccola invitò tutti i poveri della città ai quali elargì una generosa elemosina di denaro e si adoperò anche a formare cristianamente la bambina. L'accompagnava in chiesa a pregare, le dava in mano dei soldi da consegnare ai poveri e questo gesto di carità rimase per sempre impresso nella memoria di Teresa che crescendo diventò sempre più generosa verso i bisognosi ai quali dava quanto aveva di suo in silenzio e con discrezione. Il noviziato di Teresa fu particolare, abbandonata alla clausura per motivi di salute. Il suo padre spirituale le trovò un gruppo di donne in cui poteva vivere momentaneamente da laica consacrata in una casa privata praticando le preghiere. Obbedì, come sempre faceva, certa che quello che non viene da Dio non dura a lungo, mentre quello che è conforme alla sua volontà presto o tardi emerge con chiarezza. Divenne poi l'animatrice di un gruppo di donne che scelsero di sottrarsi al mondo e chiamarsi le vittime del Sacro Cuore. Nel 1910 le religiose abbandonarono la clausura per l'apostolato attivo e divennero le oblate del Sacro Cuore di Gesù. La loro missione principale fu quella di curare, il fiorire delle vocazioni tra i fanciulli, perciò nacquero i piccoli amici di Gesù, come detto, dal Cardinale Amato. Dare alla Chiesa Santi Sacerdoti fu la ragione del suo apostolato e della sua coraggiosa e profetica pedagogia vocazionale. La Madre intravide per tempo la carenza delle vocazioni sacerdotali, affrontandola con coraggio e concretezza e proponendosi di donare alle diocesi molti e santi sacerdoti rinnovati dal fuoco della Pentecoste. Oggi le oblate sono presenti in tutto il mondo con le loro opere educative in favore dei poveri e delle giovani donne prestano servizio negli orfanatrofi e nelle parrocchie, si prendono cura dei sacerdoti anziani e malati. Madre Teresa non vide tutto questo, non riuscì neppure a vedere diventare sacerdote il primo bambino che preparò al seminario perché morì nel 1937, un anno prima che egli prendesse i voti e celebrasse la sua prima messa. Ma il suo immenso carisma parla ancora a tutti noi e in modo speciale, proprio come una madre, alle sue figlie. Preoccupazione è stata espressa da Papa Francesco per la Repubblica Centroafricana dopo la preghiera dell'Angelus e nel suo appello anticipato il desiderio di aprire la Porta Santa della Cattedrale di Bangui anticipando di dieci giorni l'apertura ufficiale che farà a Roma l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione. Cari fratelli e sorelli, i dolorosi episodi che in questi ultimi giorni hanno inaspritto dalla delicata situazione della Repubblica Centroafricana suscitano nel mio animo viva preoccupazione. Faccio appello alla parte coinvolti affinché si ponga fine a questo ciclo di violenze. Sono spiritualmente vicino ai padri comboniani della parrocchia Nostra Signora di Fatima in Bangui, che accolgono numerosi esfolati. Esprimo la mia solidarietà alla Chiesa, alle altre confessioni religiose e all'intera nazione centroafricana, così duramente provate mentre compiono ogni sforzo per superare le divisioni e riprendere il cammino della pace. Per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a questa nazione così afflitta e tormentata, ed esortare tutti i centroafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione, domenica 29 novembre ho in animo di aprire la porta santa della Cattedrale di Bangui, durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione. Essere di fermento e di stimolo con la parola e l'esempio nel mondo dell'impresa è l'esortazione di Papa Francesco e membri dell'Unione Cristiana e imprenditori dirigenti incontrati nell'Aula Paolo VI sabato. Agli imprenditori cattolici, riuniti per essere artefici dello sviluppo per il bene comune, l'incoraggiamento del Papa è di vivere la vocazione imprenditoriale nello spirito proprio della missionarietà laicale. Quello dell'imprenditore infatti è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita. Anche un'impresa può diventare luogo di santificazione, impegnandosi a costruire rapporti fraterni tra chi lavora, dice Francesco. I dipendenti sono la risorsa più preziosa di un'impresa, per questo, sottolinea il Papa, è decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della loro vita lavorativa, per favorire l'armonizzazione tra lavoro e famiglia. Il pontefice pensa in modo particolare alle lavoratrici, che tante volte sono licenziate perché incinte. La donna, osserva Francesco, deve essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro, il diritto di lavorare e il diritto della maternità. Quante volte, quante volte abbiamo sentito che una donna va dal capo e dice ma devo dirle che sono incinta, da fine da mese non lavori più. La donna va a essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro, il diritto di lavorare e il diritto della maternità. L'economia e l'impresa hanno bisogno dell'etica per il loro corretto funzionamento, non di un'etica qualsiasi, ma un'etica che ponga al centro la persona e la comunità. Oggi rinnovo a voi il mandato di impegnarvi insieme per questa finalità. Porterete frutti nella misura in cui il Vangelo sarà vivo e presente nei vostri cuori, nella vostra mente e nelle vostre azioni. Questa chiamata ad essere missionari della dimensione sociale del Vangelo nel mondo difficile e complesso del lavoro, dell'economia e dell'impresa comporta anche un'apertura e una vicinanza evangelica alle diverse situazioni di povertà e di fragilità. Uscire La Chiesa o è in uscita o non è chiesa. La prima esperienza dei cristiani è stata un'esperienza di uscita. Noi sappiamo che in Palestina i cristiani erano chiamati quelli della strada, quelli che camminano, quelli della via, nel senso che i cristiani erano coloro che camminavano, che uscivano, che erano in cammino, che vivevano la sequela. Quindi l'uscita è proprio essenziale della Chiesa. Quindi l'acqua che la Chiesa offre è l'acqua della fontana pubblica, per tutti, per la città, non solo l'acqua dell'acqua santiera o del fonte battesimale. È l'acqua viva che è per il bene di tutti e il bene comune. Quindi quando San Francesco riscoprirà, secoli dopo, il Vangelo, la povertà scelta, si metterà di nuovo a camminare lungo le strade, a vivere come mendicante, a muoversi, a uscire, per dire che le persone sono lungo le vie, lungo la strada, e lì vanno incontrate. Oggi la Chiesa ha un grande bisogno, come in tutti i tempi e in tutte le età, di uscire di nuovo, di ricominciare a camminare, perché le persone che attendono l'annuncio sono lungo le strade, non vengono a bussare alle porte o troppo raramente, quindi bisogna rincontrarle, andarle a cercare. E con la certezza che tanti sono lì che aspettano questo incontro, che tanti vivono, magari non lo sanno, nelle loro gioie, nei dolori, nelle speranze, in attesa di questo incontro con chi va verso di loro. E quindi avere la certezza che sono molti che attendono questo annuncio. Magari a volte ci può essere un po' di scoraggiamento, l'impressione che il Vangelo non sia più interessante per l'uomo di oggi. Non è così. C'è tanta gente che lo attende, che lo aspetta, che lo cerca. E quindi ci vuole il coraggio, il coraggio che abbiamo qualcosa da dire, abbiamo qualcosa da raccontare, e quindi dobbiamo poterlo fare. La grande immagine, la grande icona dell'uscita è evidentemente Abramo, che nella sua terra, De Caldei, ascolta una voce, incontra, fa un incontro e parte. Parte credendo ad una voce buona che lo chiama, verso una terra che non conosce. Quindi in ogni fede c'è dentro una dimensione di fiducia, di credere in una voce che ti chiama e quindi uscire. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 2-3 novembre 2015. All'Angelus della solennità di tutti i Santi, l'appello di Papa Francesco per la pace nella Repubblica Centroafricana. Basta violenze e divisioni. Spero di poter aprire la porta santa nella cattedrale di Bangui il prossimo 29 novembre. Maggioranza assoluta all'AKP nelle legislative turche. Erdogan vince la sfida. L'IS conquista posizioni nella Siria centrale. Damasco sostiene l'intesa di Vienna. Neonati e bambini tra i migranti morti in mare. L'Egeo si prende altre vite. L'Egeo si prende altre vite. Grazie. Autore dei sovrapposti